Siamo stati bravissimi, l'immagolata è che c'è il Natale, la bellezza anche di quello che viene raccontato e quello che ci avete offerto. Questa musica che ci ha fatto un pochino immaginare il Natale del Berrano, il Natale che è stato, ma anche quello che siamo chiamati a vivere insieme. L'acconto del Natale lo conosciamo tutti quanti, eppure c'è proprio una magia, permettetemi di usare questo tempo del Natale. La musica e le vostre parole ce ne avete dato un pochino a immaginare questo nostro Natale. Grazie a tutti quanti voi, alla Università Civile del Comune del Sino, per aver scelto questo luogo. E come vedete l'applico voglio farlo qui per tanti tipi di motivi, l'immagine di Maria Santissima, l'immagolata concessione, che è un pochino l'emprema della giornata di oggi. Grazie a voi.